vaccini arriva l'accordo per somministrarli in farmacia risse e vandalismo raccolta firme per la sorveglianza in piazza redi san benedetto avviato il piano per trasformarlo in spazio culturale ital service scocca l'ora delle final eight di coppa italia benvenuti questo è il telegiornale di mercoledì 21 aprile in questa prima edizione che poi verrà replicata alle 20 e 40 in apertura questa sera parliamo delle ultime novità riguardanti la campagna di vaccinazione nella regione marche dopo un importante accordo sottoscritto infatti nella serata di ieri si avvicina la possibilità di vaccinazione anche all'interno delle farmacie comunali fra un mese si dovrebbe poter ricevere il vaccino anche in farmacia e questa la previsione della tempistica che emerge dopo l'accordo sottoscritto ieri fra l'assessore regionale alla sanità filippo salta martini e le associazioni di categoria assofarm e federfarma bisognerà attendere la ratifica della giunta regionale ma ci sono buone possibilità di cominciare con i vaccini in farmacia già da fine maggio per specifiche categorie di persone che saranno poi indicate dalla regione non appena i i vaccisti avranno terminato la formazione e saranno abilitati alla somministrazione si potrà dunque partire con le inoculazioni anti covid in 250 farmacie regionali che hanno aderito nelle marche circa 70 di queste sono in provincia di pesaro urbino diciamo che su base regionale così come su quella provinciale si attorno al 60 per cento delle farmacie presenti sul territorio considerate che la capillarità della rete delle farmacie è così estesa e così ampia che praticamente insomma ci saranno abbun vaccinali per le categorie che verranno indicate dalla regione quindi non è che tutti potranno andare a vaccinarsi ma ci dovrà essere una prenotazione sulla base delle categorie di età che ci verranno indicate dalla regione praticamente in tutti quasi tutti i comuni del territorio provinciale è una bella cosa che in qualche modo riconosce il ruolo che le farmacie hanno avuto soprattutto nella prima fase della della pandemia diciamo diciamo che le farmacie hanno svolto un ruolo fondamentale che con l'individuazione per diventare luoghi di vaccinazione con i farmacisti e i vaccinatori viene ulteriormente riconosciuto e quindi la farmacia è sempre più un luogo in cui si dispenseranno servizi legati alla persona alla salute e alla sanità. Ed ora ci occupiamo dei dati registrati nella nostra regione per quanto riguarda il covid 19 che oggi registrano un lieve rialzo dopo diverse giornate in calo sono infatti 388 i nuovi casi positivi nelle Marche su 2.723 nuove diagnosi per un totale di 4.954 tamponi effettuati. Cento di questi casi di contagio si sono registrati nella provincia di Pesaro Urbino continuano invece a calare i ricoveri scesi ora a quota 609 cioè circa 350 in meno nell'arco di un mese nella giornata di ieri si sono registrati anche 10 decessi di marchigiani contagiati da covid 19 ed ora cambiamo argomento ci occupiamo di piazza Redi dove continuano purtroppo a ripetersi atti di vandalismo intimidazioni eppure risse che hanno sempre per protagonisti bande di ragazzini episodi che stanno stancando commercianti ma anche residenti del quartiere che ora chiedono più sorveglianza ci troviamo oggi in piazza Redi una zona della città di Pesaro ad alto tasso residenziale ad alta concentrazione di attività commerciali e lavorative e a quanto pare anche ad un livello crescente di piccola criminalità c'è chi le chiama baby gang c'è chi le chiama ragazzini sfrontati e fatto sta che si sta creando una problematica seria in questa zona della città in questo quartiere episodi di vandalismo risse provocazioni ai passanti episodi di ragazzini che entrano e nelle negli androni dei condomini questo è il racconto di diverse persone che abbiamo incontrato qui in piazza Redi una problematica che sta diventando seria per residenti e commercianti tant'è che partita anche una raccolta firme destinata a chiedere maggiore video sorveglianza in questa zona un maggior transito di pattuglie di polizia per monitorare appunto una situazione prima che degeneri. Siamo all'edicola Uguccioni di piazza Redi dove in vetrina vediamo la locandina di quello che sta accadendo un po' qui nel quartiere e sul suo tavolo vediamo appunto anche la raccolta firme c'è un problema c'è un problema di baby gang le possiamo chiamare così è un disagio per commercianti residenti che a quanto pare raccolgono firme per chiedere video sorveglianza. Sì video sorveglianza un passaggio più frequente delle forze dell'ordine comunque perché in effetti si stanno riscontrando queste questi insomma queste piccole questi piccoli atteggiamenti un pochino disturbanti sia per la zona perché sta perdendo anche valore economico diciamo sia per noi negozianti perché comunque non siamo più sicuri adesso non è un problema così da aver paura però è fastidioso è fastidioso perché comunque ci sono state risse ci sono state rotture tipo furti di biciclette cose piccoline però è molto fastidioso sì. Avete dunque sentito il parere dell'edicola di piazzaredi ma dobbiamo confidare che abbiamo ascoltato tanti pareri in questa mattinata da parte di commercianti e residenti che toccano con mano questa problematica ma c'è poca voglia di apparire e di testimoniare a conferma di come si stia vivendo questo problema e si cerchi di evitare di esporsi per evitare piccole ritorsioni che stanno diventando davvero fastidiose. È stato approvato dal Consiglio regionale il piano triennale della cultura 2021-2023 una programmazione in cui spicca anche il recupero dell'ex complesso psichiatrico pesarese San Benedetto. Il Consiglio regionale ha approvato il piano triennale della cultura inserendo nella programmazione 2021-2023 anche il recupero dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto di Pesaro e la sua riconversione in spazi culturali. Un recupero che parte da lontano dal piano di edilizia flessibile proposto dall'assessore regionale Stefano Aguzzi e condiviso dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ora si vede inserito fattivamente nel piano triennale della cultura attraverso l'emendamento presentato dal consigliere regionale pesarese Nicola Baiocchi. È un passo importantissimo l'inserimento del San Benedetto nel piano triennale della cultura, una dubbio di valenza anche perché sia collegata al protocollo di impesa stipulato tra Regione, Asur e Comune per un progetto di ricordificazione del San Benedetto è ancora più importante. Questo denota un cambio di passo sostanziale della nuova amministrazione che in pochi mesi è già riuscita a stipulare il protocollo e inserire il piano culturale triennale della Regione. Una battaglia per intercettare fondi al recupero del San Benedetto per la quale si era speso in prima persona anche Andrea Biancani già dalla precedente legislatura che lo vedeva consigliere regionale sul fronte della maggioranza. Ovviamente stiamo parlando di un recupero in chiave culturale, aprendo quindi una nuova opportunità per valorizzare il bene rispetto al percorso che l'amministrazione comunale e la Regione hanno già avviato. Mi riferisco al protocollo che è stato siglato qualche settimana fa che prevede la partecipazione del Comune di Pesero al bando sulla qualità dell'abitare. Devo dire che questa è una scelta che condivido ma che ha bisogno sicuramente di essere integrata con ulteriori percorsi perché ricordo che la riqualificazione di questo bene richiede un investimento di oltre 30-35 milioni di euro e quindi le risorse necessarie per recuperarlo sono veramente molto molto ingenti. Io penso che ci siano degli spazi all'interno di questo bene, in particolar modo l'ex lavanderia, una parte dei chiostri, alcune porzioni del pieno terra, la stessa chiesa presente all'interno di questo edificio, cioè spazi che hanno veramente una, che potrebbero avere una destinazione culturale che sarebbe veramente la trasformazione naturale di alcune porzioni dell'intero edificio. Un passo importante che va nella giusta direzione, io ritengo che oggi con le risorse europee e statali che arriveranno occorre pensare a una strategia come dire integrata che pensa alla valutazione di tutta una serie di percorsi che non si ostacolano gli uni con gli altri ma che creano ulteriori opportunità per riuscire ad arrivare all'obiettivo comune che è quello di recuperare un bene così importante per la storia e la cultura della nostra città ma che nel corso degli anni sempre non siamo mai riusciti a recuperare in quanto come le risorse necessarie sono veramente molto ingenti. E continuiamo a parlare di Regione Marche e parliamo di un'altra proposta sul tavolo della nostra regione, quella dell'abolizione della tassa al Consorzio di Bonifica sulla quale sta cavalcando un'accesa battaglia il consigliere regionale Giacomo Rossi fin dalla sua campagna elettorale. Il Consorzio di Bonifica va riportato nei binari nel quale era stato concepito e questa riforma si incentra sull'abolizione della ingiusta e illegittima tassa di bonifica. 150 mila marchigiani ricevono dei bollettini come stanno ricevendo in questi giorni dove gli si chiede di pagare una tassa di bonifica a fronte di lavori che nella stragrande maggior parte dei casi non sono stati mai fatti. Quindi va riformato questo tipo di tassazione e adesso la mia proposta di legge approderà in commissione per poi passare in aula. Invito tutti i cittadini, specialmente chi riceve il bollettino con la tassa di bonifica, a sostenere questa mia iniziativa legislativa, a fare le dovute pressioni ai propri rappresentanti istituzionali, politici e verso le associazioni di categoria. Ed ora passiamo alla cronaca perché un 19enne pesarese è stato arrestato oggi dai carabinieri per una rapina consumatasi il 20 febbraio a Riccione ai danni di un turista modenese, turista che nell'occasione era a bordo della sua auto quando fu accerchiato da un gruppo di giovani ad un attraversamento pedonale. Il pesarese in questione lo colpì con un pugno al volto e gli rubò gli occhiali da sole. Le indagini hanno ora portato al riconoscimento del 19enne condannandolo con l'accusa di rapina aggravata. Sono 4 i milioni di euro che il Comune di Pesaro potrà disporre nel 2021 per operazioni straordinarie su investimenti. Soddisfatto quindi l'assessore a rigore Riccardo Pozzi per un bilancio consultivo virtuoso che sarà presentato in Consiglio Comunale lunedì 26 aprile. Domani, giovedì 22 aprile, è la giornata mondiale della terra. Per questa occasione Marche Multiservizi aprirà per tutta la giornata di sabato 24 aprile i suoi centri di raccolta differenziata con un orario più ampio. A chi consegnerà carta, plastica, vetro o rifiuti ingombranti verrà consegnato un simpatico omaggio. Sul sito web di Marche Multiservizi si possono consultare esattamente tutti gli orari di ogni centro di raccolta. Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Come sempre vi invitiamo di salvare sul vostro cellulare il numero che vedete in sovraimpressione e inviarci proprio a questo numero, foto o video oppure semplici messaggi di testo. In tanti ci avete spesso inviato foto e video per segnalare l'incuria del nostro territorio. Oggi invece non parliamo dell'incuria, ma diamo voce a una proposta lanciata da alcuni residenti del quartiere di Pantano. Vediamo di cosa si tratta. Qui noi abitiamo in via Poma 3, siamo degli inquilini, cioè non degli inquilini, delle persone che abitiamo qui. Ci piace molto questo parco, ma anni indietro sono stati abbattuti degli alberi. Se il comune avesse intenzione di rimettere degli alberi nuovi per recuperare, ci sono dei buchi a posto dove sono o abbattuti perché erano vecchi oppure caduti proprio con i temporali. Ci piacerebbe rimettere delle piante in onore di queste persone che sono venute a mancare con il Covid. È una cosa che sentiamo molto particolare perché anche qui sono venute a mancare due o tre persone che conosco e una grazie a Dio sta bene e si è salvata e quindi anche lui farà la sua testimonianza perché è giusto così. Ci piacerebbe molto se l'intenzione del comune è di rimettere qualche pianta, di fare questa dedica a queste persone che ci sono venute a mancare. Sono un testimone che sono stato molto male e ancora sto un po' male e voglio dire insomma che questo Covid è un po' stufato tutti e diciamo come ha detto la signora saremmo contenti se ci potesse abbellire il parco mettendo qualche pianta e diciamo magari curandolo un po' di più che nonostante... In onore di queste persone. In onore di queste persone che poi tutto sommato il nostro parco è ben messo però si potrebbe migliorare. E questa sera concludiamo con lo sport, in particolare con l'Ital Service perché domani a Rimini scattano le Final 8 di Coppa Italia. Un appuntamento che potrete seguire in diretta su Rossini TV come ci spiega in questo prossimo servizio Edoardo Orazzi. L'Ital Service sogna il primo trofeo della stagione. Partono giovedì le Final 8 di Coppa Italia che vedrà la squadra pesarese affrontare la Colormax Pescara nel primo match del torneo. Fischio d'inizio alle ore 11 del mattino in diretta esclusiva sul canale 633 di Rossini TV. La competizione avrà sede a Rimini, al 105 Stadium, da giovedì 22 a domenica 25, il giorno in cui verrà disputata la finale. Un obiettivo importante per l'Ital Service Pesaro che non vorrà lasciarsi sfuggire. Sarebbe fondamentale per noi vincere un altro titolo, un altro trofeo perché comunque sarebbe motivo d'orgoglio per tutti noi, per la nostra società ma soprattutto per la nostra città, per Pesaro, per le Marche, per tutti i nostri tifosi. Quindi noi come società abbiamo allestito una squadra competitiva per cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni, quindi Coppa Italia, Scudetto, Playoff, proprio perché lo sport, il calcio a 5 sta crescendo in maniera esponenziale, sta crescendo in maniera importante, è sempre più vicino, è sempre più attaccato alla divisione della FIGC quindi c'è anche questo connubio importantissimo anche con le elezioni del nuovo presidente che è un uomo che viene dal calcio a 11, Luca Bergamini. Quindi ecco, questa unione fa sì che comunque questo sport stia crescendo a livello nazionale e quindi qui nella nostra città sta crescendo in maniera importante anche a livello locale. Biancorossi che, reduci dal focolaio Covid all'interno del gruppo giocatori, scenderanno in campo per la prima volta dopo un mese esatto dall'ultima partita disputata. Come sappiamo tutti veniamo da una sosta lunga, una sosta lunga portata a causa del Covid con otto componenti tra staff e giocatori che hanno risultati positivi e quindi sicuramente questo stop portato non ci agevolerà. Però comunque noi abbiamo tutte le caratteristiche, le condizioni per superare anche questi momenti difficili. Siamo stati tra virgolette anche fortunati perché comunque ci siamo negativizzati tutti entro il periodo della Coppa Italia e quindi ecco, questo è stato un segnale buono però non sarà sicuramente un momento semplice. E allora in bocca al lupo Italservice, non perdetevi la diretta di domani, intanto non perdetevi anche la programmazione di Rossini TV per questa sera perché alle 21.15 torna la nutrizionista a chilometro zero con tanti prodotti e ricette del nostro territorio. A seguire alle 21.30 una nuova puntata di BP Cube in forma, ospite questa sera sarà Mauro Papalini. E poi vi ricordiamo anche appunto la diretta di domani, domani giovedì 22 aprile in diretta da Rimini, le Final 8 di Coppa Italia Serie A alle ore 11, non perdetevi questa gara, Colormax contro Italservice. E poi domani una nuova puntata di Insieme a Canestro alle ore 21.15. Gli ospiti di domani saranno Elio Giuliani che è colui che è il responsabile della comunicazione della VL, poi ci sarà Lucio Zanca che è stato dirigente della VL e poi Alessandro Boni, ex giocatore della VL. Quindi l'appuntamento domani sera con Insieme a Canestro. Grazie per averci seguito, adesso per voi il meteo, continuate e restate su questa rete di Rossini TV e non dimenticatevi anche la rassegna stampa di domani alle 7.20. Grazie. Grazie.